Grazie a tutti. Questa storia racconti non di un abbandono ma di un presidio, cioè un presidio del male nelle nostre città che è terrificante, purtroppo terrificante perché è conosciuto. Questo mese è cominciato con la morte di una ragazzina di 16 anni nei bagni della stazione di Udine perché si era iniettata una dose di eroina gialla che ha già fatto più di 20 morti nel nord-est. Ovviamente Alice, si chiamava Alice, era una ragazza bellissima di 16 anni, non è arrivata sulla cronaca nazionale, ma il nostro mese è cominciato con una ragazzina di 16 anni che si è iniettata una dose di eroina gialla che sta ammietendo decine di morti nel nord-est ed è morta nei bagni di una stazione centrale di una città. Quando tu mi racconti, ed è la storia che oggi è sulla vicenda della cronaca e c'è il parallelo con Pamela, a me viene in mente Sara. Sara è morta nella mia città, a Roma, nei padiglioni abbandonati dell'ospedale Forlanini, ancora una volta centralissimi, sempre per lo stesso problema. Noi abbiamo dei luoghi nelle città che sono noti e che sono oggettivamente colonie del male. Su questo sono d'accordo, però Mario, adesso vi ci porto. Sono presidiati da un business, dammi retta, è questa la storia, sono presidiati da un business che poi produce sopraffazione e morte. La storia di Desiree, siamo qui. Scusa, siamo qui, voglio fare una proposta concreta. Un attimo, ragazzi, parla Mario, per favore, Adinolfi. Qui siamo quattro giornalisti e un ex sindaco, peraltro bravo sindaco, come Cattaneo. Invitiamo il sindaco di Roma a mettersi la fascia tricolore e venire con le telecamere di Canale 5 nelle piazze di spaccio di Roma ben conosciute. Vi faccio i nomi, Ponte Sisto stasera, a Roma, San Basilio, Torpignattara. Ci andiamo con le telecamere di Canale 5 e la fascia di colore. Volentieri, volentieri, noi lo proponiamo. Grazie a Mario Adinolfi, grazie a Francesca Barra, grazie a Roberto Poletti, grazie ad Alessandro Cattaneo, anche perché altrimenti, altrimenti, cioè abbiamo già perso, abbiamo già perso. Ci andiamo tra poco. Grazie a tutti.